caro gasolio esciò per i tempi duri per la pesca da domani tornano le isole pedonali in viale trieste scuole 11 milioni in arrivo per istituto agrario cecchie scuola del libro elezioni si vota per il sindaco di frontino tavoleto e terre roveresche canile di pesaro l'avanguardia per la cura di animali aggressivi buona serata tutto il pubblico di rossini tv sul canale 80 e tutti coloro che ci stanno guardando in streaming dal nostro sito www.rossinitv.it oggi è mercoledì primo giugno e apriamo questa edizione occupandoci di un settore che sta vivendo un periodo molto particolare quello della pesca alle prese con caro gasolio e scioperi questa mattina quindi le nostre telecamere si sono accese al mercato del pesce del porto di pesaro per comprendere quali sono le ripercussioni di questa situazione tempi duri per la pesca fra chi esce in barca e viene messo in ginocchio dal caro gasolio fra chi il pesce lo deve vendere e ne ha disposizione sempre meno se le barche decidono di fermarsi e sono tempi duri anche per il consumatore che non trova pesce fresco o lo trova a prezzo ritoccato la grande pesca ha incrociato le braccia scioperando da giorni la piccola pesca ha provato ad allinearsi ma fermarsi diventa insostenibile come spiegano i pescatori che gravitano al mercato del pesce del porto di pesaro l'aumento del gasolio anche a noi ci dà una bella abbassata di guadagno anche come i camionisti come tutti quanti però noi facciamo una pesca che non stiamo in mare buttiamo le reti e andiamo il giorno dopo e andiamo a riva non andiamo a largo come le vongolare anche noi consumiamo al massimo 100 litri al giorno di nafta capito non è come queste barche grosse che consumano mille litri al giorno e passa ci incide ma se ci fermiamo anche noi andiamo sempre più giù mentre loro hanno avuto anche i soldi i contributi allo strasico gli danno qualche soldo anche se poco glielo danno noi ci siamo fermati un giorno poi abbiamo visto che non prendevamo niente è meglio che lavoriamo se no andiamo sempre più giù diciamo c'è questo sciopero partito soprattutto dalla categoria dello strasico sembrava inizio settimana che coinvolgesse anche la piccola pesca ma poi in realtà sono stati fermi lunedì perché dopo poi ci sono sentiti con altri compartimenti senigalli ancora la piccola pesca ha riniziato l'attività perché sì seppure il gasolio costa tanto per noi qua ci stiamo dentro cioè noi consumiamo poco cioè io in un anno la nafta che faccio io loro probabilmente la fanno in due settimane e quindi è giusto che ognuno cioè guardi le tasche su nel senso c'è uno sciopero non puoi tirare dentro tutti noi siamo siamo tante categorie diverse e non siamo tutti uguali cioè io che pesco le retine non sono uguale a uno che pesca le vongole non sono uguale uno che va lo strasico non sono uguale uno che pesca gli ami tonni e quindi loro io sono penso che facciano bene a scioperare perché io capisco che per loro è diventato insostenibile però per voi sarebbe insostenibile il contrario decidere di fermare non posso fermarmi adesso io non posso fermarmi cioè non posso ma poi non non vedo il motivo le conseguenze della situazione al mercato del pesce è che non mancano giorni di banchi vuoti per conciliare anche le esigenze delle pescherie quando i banchi sono invece forniti ci possono essere fisiologiche variazioni di prezzo pesce c'è pochissimo perché tanto noi quello che peschiamo noi in un giorno loro pescono in un'ora perché mille cavalli delle gabbi che capito per più l'importazione sarà sempre più avvantaggiata perché la gente dopo compro il pesce congelato sul gelato quello è un peccato nel nostro piccolino dai qualche famiglia accontentiamo ma è una goccia nel mare proprio il pesce il prezzo del pesce lo fa il mercato lo fa la richiesta viene a meno il pesce aumenta la richiesta e il prezzo un pelarino aumentano però ci siamo ritrovati da dieci giorni a sta parte che io molti giorni non sono neanche riuscito a aprire la caretta perché comunque pesce vendoli la gente vuole pesce fresco però si sta lavorando bene si sta lavorando ed ora cambiamo argomento e cambia il volto del lungomare di pesaro da domani e fino al 4 settembre saranno riproposte per il terzo anno consecutivo due isole pedonali in viale trieste in questo servizio vediamo quindi gli ultimi preparativi da domani giovedì 2 giugno fino al 4 settembre torna la pedonalizzazione di viale trieste torna per il terzo anno consecutivo e oggi mercoledì primo giugno ci sono gli ultimi ritocchi per quello che riguarda questo cambio della viabilità del transito su questa zona due isole pedonali realizzate tra viale zara e via ninchi e fra viale marconi e viale pola con qualche novità è stato rifatto completamente l'asfalto in questa zona è stato ridipinto d'arancione nelle zone in cui andranno anche allargati i tavoli dei locali e dei ristoranti presenti in questa zona si stanno preparando gli arredi arredi green e white il green il verde delle piante che il centro operativo del comune sta allestendo il bianco degli arredi tra panchine e altri addobbi previsti e poi anche la novità di alcuni gazebi rivestiti con i materiali di sdraio da amare appunto per completare il tutto un tema quello della pedonalizzazione di viale trieste che abbiamo affrontato raccogliendo anche i pareri degli esercenti di alcuni locali presenti in questa zona ma secondo me l'idea della della zona pedonale comunque ci sta in una in una città di mare è giusto che comunque il lungomare venga sfruttato utilizzato anche in via pedonale noi consideriamo che soprattutto nella fascia oraria diurna non sia assolutamente necessario e come noi penso la maggior parte dei commercianti e delle attività di questa zona perché di fatto rendono impossibile è molto difficile avvicinare clienti durante la fascia oraria diurna poi per la sera potremmo sì è un'altra cosa però ecco sarebbe secondo noi intelligente modificarla naturalmente creare isole pedonali in viale trieste limita il transito delle auto e anche le aree di sosta motivo per cui è quasi pronto il nuovo parcheggio di villa marina riqualificato vedete alle mie spalle gli ultimi ritocchi alla segnaletica orizzontale per i circa 165 posti auto che saranno usufruibili tra qualche giorno in questa area è stata anche realizzata un'area apposita dedicata al parcheggio di scooter e motorini ed è stato anche completato nei giorni scorsi un murale murale vernacolo in idioma pesarese per addobbare il tutto ed ora passiamo alla cronaca e a un caso di caporalato che ha portato oggi all'arresto di un 24enne egiziano titolare di un autolavaggio a gabice mare il nord africano sfruttava la manodopera di due connazionali contravenendo a regolare rispetto dei contratti dipendenti che dormivano nella stessa struttura assieme al datore di lavoro in condizioni igienico sanitarie fatiscenti oltre 11 milioni di euro di fondi sono in arrivo per due scuole superiori della nostra provincia di Pesaro Urbino stiamo parlando dell'istituto agrario Cecchi e la scuola del libro di Urbino l'orente è noto il presidente Giuseppe Paolini dopo l'incontro di oggi a Roma col commissario straordinario alla ricostruzione Giovanni Legnini secondo i bandi relativi agli adeguamenti sismici susseguenti al terremoto del 2016 sono stati ottenuti 6 milioni e mezzo di euro per l'agrario Cecchi di Pesaro e 4 milioni 930 mila euro per la riparazione con adeguamento sismico della sede in via Bramante della scuola del libro di Urbino Dopo l'intervento dei sindaci di Pesaro e Fano, Ricci e Seri dichiaratisi palesemente contrari alla chiusura dell'azienda ospedaliera Marche Nord sul tema è intervenuto oggi anche il sindaco di Monbaroccio Emanuele Petrucci dicendo di condividere il mantenimento dell'azienda ospedaliera a patto che non sia un'azienda finta come l'attuale i cui risultati stanno producendo liste di attesa insopportabili e fughe di ottimi professionisti verso altri lidi il tutto, secondo Petrucci, grazie ad una direzione aziendale gravemente responsabile di non aver attuato quella conciliazione fra ospedale e territorio prevista dalla programmazione regionale ma rimasta sulla carta Il 12 giugno si torna al voto per le elezioni amministrative in 17 comune delle Marche tre dei quali sono della provincia di Pesaro Urbino stiamo parlando di Terre Roveresche, Tavoleto e Frontino e allora oggi in questo spazio televisivo cominciamo a conoscere la candidatura di Andrea Spagna che si candida appunto per la terza volta nel comune di Frontino vediamo Andrea Spagna, sindaco di Frontino il 12 giugno ce l'ha chiamata alle urne per una nuova elezione del Consiglio Comunale elezione del nuovo sindaco a Frontino c'è soltanto la sua lista candidata e questo suggerirebbe un percorso in discesa ma poi nei fatti non è così perché bisogna anche combattere con l'affluenza alle urne un percorso in salita perché il problema dell'astensione c'è fortunatamente adesso hanno cambiato la legge che tolgono tutti gli iscritti all'aere dunque i residenti all'estero e questo ci ha agevolato parzialmente però in ogni caso per essere vali delle elezioni bisogna raggiungere il quorum dunque questa è la nostra sfida e il raggiungimento del quorum Come si fa a campagna elettorale senza uno sfidante? Come si fa? Si fa parlando con la gente facendo vedere quello che uno ha fatto io a 18 anni che sono all'interno del comune prima da assessore e poi da sindaco in un percorso che inizia molto prima secondo me questa continuità di questa amministrazione che governa questo borgo da più di 50 anni qualcosa l'ha fatto dunque facciamo parlare quello che abbiamo fatto più che altro Frontino è un piccolo microcosmo ha delle peculiarità importanti e diciamo nei prossimi 5 anni mi piacerebbe raggiungere alcuni obiettivi il primo è quello di essere un comune 100% bio siamo molto vicini però dobbiamo puntare sempre di più sulla qualità per differenziarci e la qualità nostra a livello di agricoltura e il biologico ci siamo quasi e nei prossimi anni mi piacerebbe raggiungere questo traguardo poi dobbiamo dare sostegno alle nostre attività le nostre attività artigianali è recentemente nata una cooperativa agricola sociale nel nostro territorio che fa produzione di insaccati ha aperto una fattoria didattica fa tante attività e questa è la dimostrazione di come si possono fare attività e economia nel nostro territorio dunque bisogna incentivare sempre di più questo tipo di attività per attrarre nuovi abitanti l'obiettivo è quello poi dal punto di vista turistico frontino è un piccolo gioiello abbiamo 16 strutture turistiche dunque bisogna continuare nella promozione del nostro territorio per valorizzarlo sempre di più ricordo che noi siamo uno dei pochi comuni della provincia di Pesaro ad aver ottenuto le due certificazioni più importanti per i paesi dell'interno che è la bandiera arancione e i borghi più belli d'Italia e questo nel corso del tempo ci hanno portato anche ad avere numeri importanti di presenza turistica e a Pesaro è stato confermato oggi per il terzo anno consecutivo il servizio di spiaggia dedicata ai cani in Baia Flaminia il comune conferma il servizio sull'arenile libero tra la foce del foglia e la concessione demaniale dei vigili istituendo un bando per la gestione della spiaggia dedicato alla specifica accoglienza degli amici a quattro zampe a cui si aggiunge il noleggio di lettini, ombrelloni e la somministrazione di cibo e bevande attraverso un track food e dalla spiaggia per i cani restiamo in tema parlando del canile di Pesaro che è stato, pensate, il primo in Italia ad adottare una particolare terapia per i cani con diversi problemi comportamentali vediamo a tal proposito il servizio realizzato da Edoardo Razzi secondo alcune ricerche il canile comunale di Pesaro è il primo in Italia tra quelli pubblici ad utilizzare una tecnica innovativa volta alla cura di alcune problematiche comportamentali dei cani l'iniziativa promossa dalla cooperativa T41bis in collaborazione con il Rotary Club e il comune di Pesaro si chiama Apelo d'Acqua e consiste nel trattare in acqua i cani con problemi di aggressività paura, fobia o iperattività il canile di Pesaro per rendere possibile questa pioneristica terapia si è dotato di una piscina munita di rampa giochi e di imbragature e di due educatori cinofili specializzati in questo particolare trattamento Il progetto nasce proprio come ulteriore contributo a quei cani che arrivano in canile con problemi comportamentali e ai quali non vogliamo lasciare niente di intentato come possibilità di un probabile adozione quindi il progetto Apelo d'Acqua si accosta a un lavoro già di base di educazione per rendere i cani problematici socievolmente operabili all'interno del canile con i cani fobici con i cani che hanno problemi di ansia l'acqua crea una situazione avvolgente una situazione che rende il cane più mansueto e tra l'altro anche nel rapporto con la persona favorisce proprio il rapporto nel momento in cui il cane entra in acqua entra in una situazione per lui non abituale ecco per cui per esempio un cane aggressivo dovendo nuotare e dovendo provvedere alla sua sopravvivenza è molto meno attento agli stimoli esterni per cui permette maggiormente l'approccio con l'umano fino al contatto e questo ripetuto poi nel tempo il cane lo memorizza e tutto questo poi è possibile anche al di fuori dell'acqua Da qualche anno a sta parte il canile di Pesaro riceve molto meno cani abbandonati il che viene visto come un aspetto positivo dalla cooperativa T41bis che però, d'altro canto, si trova ad accogliere sempre più cani con problemi comportamentali problemi che poi rendono complicata l'adozione La tendenza, perlomeno nel nostro canile ma non solo nel nostro canile ma in tutto il nostro territorio è quella di ricevere sempre meno cani trovati vaganti sul territorio e ricevere sempre più cani con problemi comportamentali cioè cani che vengono da famiglie dove i proprietari hanno avuto difficoltà per non dire incapacità nel gestirli e quindi vengono portati in canile questi cani naturalmente alcuni dei quali sono anche aggressivi poi hanno poche, scarse possibilità di essere adottati e quindi è doveroso quindi un lavoro di recupero comportamentale per cui il canile proprio come finalità si sta modificando perché da una situazione semplicemente di luogo dove il cane insomma viene posto in attesa di un'adozione diventa un luogo di recupero, di educazione è stato inserito tra i 12 grandi eventi dell'estate del comune di Pesaro TOLC il festival dell'organo di informazione il POST che tornerà in città da venerdì 17 a domenica 19 giugno con confronti su giornalismo politica, attualità e musica ci saranno Francesco Costa Vera Gheno Maccio Capotonda Giulia Balducci Filippo Ceccarelli Maurizio De Giovanni Daniele Rainieri Chiara Albanese Matteo Bordone Francesco Bianconi che è il cantautore frontman dei Baustel gli incontri saranno ospitati in Piazza del Popolo Piazzale Collenuccio e Centro Artivisive Pescheria e domani 2 giugno alla Fondazione Oasi sul San Bartolo andrà in scena una straordinaria performance con 193 artisti di diversa nazionalità che dipingeranno 193 bandiere dei paesi ONU su una maxitela bianca di 530 metri si tratta di un evento unico al mondo per dire no in forma d'arte a tutte le guerre ancora in corso le immagini che vedete si riferiscono agli ultimi preparativi sul San Bartolo dove la fondazione Oasi Oikos di Claudio Balestri invita tutti a partecipare a partire dalle 16 a questo grande dipinto per la pace un appuntamento che chiaramente sarà seguito anche dalle nostre telecamere di Rossini TV e che potrete poi vedere in onda nei prossimi giorni Pesaro si prepara ad ospitare il Marche Pride del 18 giugno avvicinandosi con una serie di iniziative dedicate all'orgoglio della comunità LGBT come la terza edizione di Rainbow Talk che si terrà sabato 4 e domenica 5 giugno al cortile di Palazzo Toschi Mosca si tratta di quattro conferenze dal titolo sempre liber organizzate da Archie Gay Agora Pesaro Urbino e Gap Urbino con il sostegno del comune di Pesaro ed ora una comunicazione di servizio perché Malca e molti servizi informa che in occasione della giornata mondiale dell'ambiente sabato 4 giugno ci sarà un'apertura straordinaria di tutti i centri di raccolta della provincia di Pesaro Urbino dalle 15 alle 18 a coloro che utilizzeranno il servizio portando carta plastica vetro o rifiuti ingombranti verrà consegnato un piccolo omaggio si tratta di un'iniziativa che Marche e Molti Servizi realizzerà in collaborazione con l'Istituto Agrario della Rovere di Urbania giornata dell'ambiente che invece oggi l'Istituto Comprensivo di Villa San Martino ha celebrato assieme a CGL Hauser e Aspes piantando 50 alberi con lo scopo di salvaguardare il pianeta e costruire un futuro migliore è un progetto che Aspes ha portato avanti dietro l'input dello SPI CGL del sindacato dei pensionati che ha deciso in occasione della giornata mondiale dell'ecologia di donare alla città 100 piante e quindi oggi è avvenuta la prima parte della piantumazione abbiamo individuato quest'area che è a ridosso dell'abitato di Villa San Martino ma che è un pochino di confine tra la via Solferino e le interquartieri un'area che sicuramente con questa piantumazione viene riqualificata sarà fruibile a tutti sono stati i ragazzini delle scuole media di Villa San Martino dell'elementare di Villa San Martino che hanno in qualche modo scelto cose come fare lo spazio e assieme all'input al grande lavoro del sindacato dei pensionati si è individuata l'area e si è fatto questo tipo di piantumazione ad ottobre verrà il secondo step verranno piantate ulteriori 60 piante che serviranno appunto a completare l'area in quell'occasione le scuole che prima ho citato individuiranno anche il nome dell'area proprio per dare la titolazione l'idea è quella di tenere insieme in un patto intergenerazionale i nonni appunto perché lo SPI è il sindacato dei pensionati ma insieme ai bambini che rappresentano il futuro e quindi un luogo che sia accessibile inclusivo che rispetti la socialità e che possa fare stare insieme i giovani con gli anziani quanto diciamo così per sconfiggere i cambiamenti climatici sul riscaldamento del pianeta non basta la tecnologia ma quello che serve è mettere in pratica dei comportamenti un modo di comportarsi diverso sia dalla raccolta differenziata al fatto del verde il tema del green di piantare alberi è secondo me quello che ci permette di avere poi nel futuro un mondo migliore un mondo dove ci siano più giardini più angoli di verde più parchi e meno parcheggi il covid ci ha dimostrato quanto sia importante avere degli spazi pubblici di qualità di avere dei luoghi belli accessibili dove poter stare insieme e vivere la nostra socialità perché anche qui in questi due anni gli anziani hanno sofferto tanto hanno sofferto tanto la solitudine e la solitudine porta poi alla depressione i brutti problemi soprattutto quando uno è anziano e siamo arrivati alla fine del nostro telegiornale seguite continuate a seguire la programmazione di Rossini TV perché questa sera a partire dalla nostra prima serata alle 21.20 potrete vedere quello che è stato una sintesi di questa conferenza nazionale canali postural method che è avvenuta appunto all'hotel Baia Flaminia in collaborazione con Fisio 12 di Pesaro a seguire alle 21.40 circa invece vi mostreremo questo importante evento che ha organizzato Confartigianato che ha ospitato Federico Faggin una persona importantissima conosciuta in tutto il mondo fisico inventore imprenditore che parlerà di innovazione tecnologica opportunità per le micro piccole imprese e poi vi ricordiamo che domani festa della Repubblica 2 giugno saremo con voi per la nostra rassegna stampa in diretta alle 7.20 in diretta sul canale 80 e anche sulle nostre pagine web e social e poi troverete sempre le consuete repliche alle 8.20 12.30 14.18 e sempre domani ma domani sera vi presentiamo una bellissima prima serata uno spettacolo teatrale con il nostro amico carissimo Carlo Pagnini organizzato dal Lions Club Gabice Mare che incontra Carlo Pagnini in Tumbi Kir D'Acqua italiano e dialetto prosa e poesia serio e faceto e vi ricordiamo sempre gratuitamente scaricate la nostra applicazione è molto semplice e molto comodo per avere sempre i programmi di Rossini TV anche sotto l'ombrellone grazie per essere stati con noi vi aspetto domani mattina puntuali alle 7.20 con la nostra rassegna stampa